Pensa che ci sono dei bambini che nemmeno ce l'hanno le macchine, allora una volta c'è te, una volta te. Noi abbiamo una palla di macellone, anche Mira e anche... Sì, ma quella non vale, perché quella va da sola. Anche... Non c'è. Io che ero. E io sono quella di Mira. Io della Roma. Eh? Io non la comprerò. Io non la comprerò. Io che ero anche Roma. Sì, la Roma viva dentro di quattro volte. Io che ero Roma. Tu ti fai la Roma? Anche il suo suono, il Italia e Mira e Barcelona. Però l'intera giù non ci siamo. Tu ti dici che cosa si ti può. Eh? Ti dici che cosa si ti può. E' il suo suono. E' il suo suono. Come io. E' il suo suono. Lo che da mio figlio mi risponde se deve pescare. E' il suo suono.